oggi dal centro porto di pesaro vi parlerò della nostra 911 gt3 una vettura super sportiva ed esclusiva capace di erogare fino a 475 cavalli è una vettura che nasce per la pista ed è capace di superare i 300 chilometri orari alcune delle sue peculiarità sono la trazione posteriore e il cambio automatico pdk la nostra gt3 è in colorazione argento rodio metallizzato con interni in pelle ed alcantara la vettura viene venduta con 12 mesi di garanzia porsche approved con possibilità di estensione alla consegna ha solamente 14.150 chilometri ed un unico proprietario la serie gt3 nata con la generazione 996 è una vettura progettata per la pista ma in questa versione vi sono alcune accortezze di serie come il retrotreno sterzante che la rendono idonea per l'utilizzo quotidiano per quanto il suo habitat naturale sia la pista questa vettura non vi è mai scesa quindi chi l'acquisterà avrà un gioiello da collezione praticamente nuovo ti aspettiamo nel nostro centro porsche pesaro per maggiori informazioni e per scoprire tutta la gamma porsche approved